Ciao a tutti, oggi vi presento questo aspirabriciole della Black & Decker, il Dust Buster. La disiniezione completa del modello in realtà è molto più lunga, ce ne sono tante varianti non solo di colore ma anche di potenza. Onestamente, inizialmente, prima di comprare questo prodotto non sapevo di aver bisogno di un aspirabriciole, ma certe difficoltà nella manutenzione ordinaria della casa risultavano soprattutto nel momento in cui, avendo uno di quegli aspirarvolveri pesanti, bisognava raggiungere alcune superfici oppure bisognava aspirare rapidamente qualcosa, soprattutto anche con i gatti che lasciano un casino terribile, senza tirar fuori l'aspirapolvere. In questo caso, un oggetto molto piccolo e compatto e leggero poteva essere d'aiuto. Innanzitutto, vediamo bene da vicino com'è fatto. Vediamolo anche da vicino com'è fatto il Dust Buster della Black & Decker. Iniziamo dalle scritte, ovviamente, che ci informano del modello, il marchio, la categoria perché di Dust Buster ce ne sono tanti, poi sappiamo la potenza in Watt 5.4 e la tensione elettrica della batteria interna 3.6. Ripeto, di questo modello c'è anche un altro dove la tensione della batteria è di 7 Volt, aspira un po' più forte in quel caso. Inoltre, siamo informati del fatto che è senza fili, perché qui la batteria è integrata, ed è una batteria al litio, quindi aiuta un pochino con il peso. Gli unici due comandi che troviamo su questo aspirabriciole sono questi due pulsanti blu. Il primo pulsante che ci serve per aprirlo, per esempio per svuotare il contenitore integrato e riutilizzabile, delle briciole, non utilizza quindi sacchetti come altri sistemi più obsolescenti, e ovviamente il pulsante dell'accensione. Nota bene che a differenza, per esempio, di molti aspirapolveri, il pulsante dell'accensione va tenuto premuto. Non è una volta premo e funziona, perché se lo lascio, come vedete, il motore si spegne, ma bisogna tenerlo premuto. Che un pochino ci ricorda del fatto che questo è soltanto alla fine un aspirabriciole e non un aspirapolvere, ed è fatto per compiere delle brevi azioni di aspirazione piuttosto che quelle lunghe. A come si apre con questo pulsante e cosa ci sta dentro? Adesso ci arriviamo. L'ultima cosa degna di nota è l'attacco per il caricabatterie, che ovviamente arriva integrato con la confezione, semplicemente lo si può inserire qua qui dentro. È vero che è un attacco specializzato, quindi se perdete il caricabatterie o succede qualcosa, dovete ricomprarlo, buona fortuna. Avrei credito magari un attacco universale, ma in questi elettrodomestici è anche abbastanza tipico che si utilizza attacchi proprietari, potremmo dire. Per svuotare il contenitore, il tasto blu ci fa vedere qui l'icona di un omino che butta la spazzatura e la scritta in inglese è empty, ovvero vuoto perché non mastichi l'inglese, possiamo premere il tasto e in tal modo, con questo movimento di rotazione, separare intanzitutto queste due parti, la macchina propriamente detta, dal filtro e il contenitore della sporcizia. Per l'ordinaria manutenzione basta fare questo, volendo potremmo svitare queste viti per andare a smontare l'attrezzo, ma questo ovviamente potrebbe intaccare la garanzia, quindi sconsiglio caldamente di farlo, a meno che non sapete che cosa state facendo, non sapete che cosa state riparando, lasciamolo così in questo momento, lasciamolo da parte per un attimo. Abbiamo il contenitore con i filtri, possiamo rimuovere il filtro e le operazioni che dobbiamo fare per andare a svuotare il sacchetto, quindi semplicemente lo tiriamo fuori, qui ci sta uno dei filtri, ed ecco qui che ci sta il sacchetto, come vedete è stato abbastanza usato, c'è ancora della polvere dentro, noi lo usiamo regolarmente, in realtà qui l'unica cosa qua dentro è non rimovibile, questo bocchettone, spero si vede, di gomma, se la mia mano come vedete si apre qua sotto, ovviamente che quando l'aria lo risucchia si apre, poi si chiude da solo per impedire ovviamente l'uscita dello sporco dal dispositivo. Andiamo a rimontare tutto quanto, possiamo inserire in questo momento il filtro, che semplicemente sta nella sua sede. Ora per rimontare tutto quanto ho trovato che non si può mettere semplicemente dritto, ma va rifatto lo stesso movimento dello smontaggio iniziale, ovvero in questa maniera, e in tal modo si può chiudere, non può entrare dritto così come vedete, ma deve agganciare. Abbiamo provato questo aspirabriciole su tante superfici diverse, e su tutte di queste superfici si è rivelato assai versatile. Siccome viene venduto come un aspirabriciole, ero in realtà scettico della sua capacità di aspirare i liquidi, perché c'è scritto che aspira anche i liquidi, invece se la cava assolutamente egregiamente. Certo, se vi cade una bottiglia intera, o un bicchiere intero, forse la capacità in teoria di 385 millilitri è un po' troppo poca, ma se avete delle piccole perdite d'acqua, o vi cade un caffè, questo lo aspira tranquillamente e molto rapidamente. Certo, le superfici asciugate in questa maniera necessiteranno poi magari di essere passate con della carta, ma comunque aiuta tantissimo. Vi dirò che ha due difetti, ma sono dei difetti perfettamente giustificati dall'estremo costo contenuto, semplicemente per correggerli bisognerebbe pagare di più. Il primo difetto, quello ovvio che la stessa Black & Decker ha previsto, è la potenza del motore. Per questo a qualcosa come 15 euro in più ci sta una versione col motore più potente. È del tutto sufficiente, ma spesso bisogna tenere abbastanza vicino la bocca e anche leggermente, parlo di mezzo centimetro, sollevata dalla superficie per aspirare correttamente. È proprio lì, in quel margine di errore di come lo si tiene, che la potenza maggiore potrebbe aiutare. Ma nonostante ciò, i 3.6 volt della batteria e la potenza del dispositivo sono del tutto sufficienti a svolgere il lavoro per il quale è stato pensato. Sufficienti, ecco. La seconda cosa è che la forma di questo stesso bocchettone a volte si adatta un pochino male ad alcune superfici. Noi per esempio spesso puliamo con questo dispositivo, noi lo chiamiamo il castello, la torre dei gatti, ovvero uno di quei cosi di pelusce dove si possono arrampicare fino in alto e avremmo gradito per esempio una bocca diversa, magari una spazzola che si attacchi un pochino meglio e spazzoli un po' meglio questa superficie. In questo relativamente manca di versatilità. Lo facciamo comunque, non è un grande problema, ma sarebbe stato meglio. Nota bene, anche questo la Black & Decker l'ha previsto, infatti i modelli più avanzati di aspirabriciole, ben più costosi, hanno attacchi diversi. E tutto questo ovviamente è spiegato dal costo. Io quando l'ho comprato l'ho pagato 35 euro su Amazon. Ah, che tra l'altro vi lascio il link in descrizione se siete interessati a dargli un'occhiata oppure a comprarlo. A conferma ulteriore del fatto che funziona leggiamo magari cosa proprio ne dicono su Amazon gli utenti. Come vedete il prodotto è molto acquistato, il 50% delle recensioni sono da 5 stelle, anche se c'è una fetta sostanziale di persone che non lo valutano a 5 stelle. Luigi è entusiasta del prodotto di da 5 stelle e ci dice per rapporto qualità-prezzo è ottimo, aspira molto bene e design buono. Maria Lourdes invece ci dice che l'aspirazione non è delle migliori, ma ovviamente l'acquisto deve essere in base all'utilizzo che si vuole fare. Qui sono molto d'accordo con Maria Lourdes che dà un giustissimo, secondo me, 4 stelle di recensione, sottolineando ovviamente i limiti di questo dispositivo. E ricordatevi anche voi, è comunque un dispositivo da 30 euro. Alberto non è convintissimo, dà 3 stelle e ci dice che è un prodotto compatto ma con poca potenza di aspirazione che lascia a desiderare. L'assenza di accessori, inoltre, è penalizzante per la recensione finale. Anche questo l'abbiamo sottolineato. Ricordiamo che la Black & Decker ha comunque altri modelli e questo stesso modello è anche presente con un motore più forte e altri modelli più avanzati con più accessori. Fausta invece ci dice che è pessimo, lascia una stella. Non è contenta dell'automia e della ricarica e che è scomodo il tasto pigiato per farlo funzionare, una cosa che anche noi abbiamo notato. Qui non sono del tutto d'accordo con la bassa potenza di aspirazione. Diciamo che è media. Non c'è molto da aspettarsi ma è stata per me sufficiente. Ingombrante e poca monacevole? Beh, non direi. In conclusione, questo aspirabriciole è un prodotto del tutto soddisfacente. I suoi limiti sono limiti esclusivamente dati dal suo prezzo. Ma, ripeto, con quello che si spende si è un prodotto del tutto decente. Spero che questa recensione vi sia piaciuta. Noi, come al solito, ci vediamo alla prossima.